Senz'altro oltre questa capacità di comunicazione io voglio sottolineare quanto sia necessario anche irrobustire la parte strategica nel ruolo della vendita perché la funzione vendita è grazie a questa capacità anche di curiosità e di apertura e di eclettismo ricopre quella dimensione liminale cioè che sta un po' fuori e un po' dentro ma è davvero il ponte tra il fuori e il dentro e questo ha un potente potenziale strategico di riportare dentro che cosa sta accadendo fuori e sia dai concorrenti sia i nuovi trend sia i consumatori clienti e tutto ciò che è la struttura e la capacità di innovazione interna quindi credo che per fare questo è necessario pianificare e progettare dei percorsi di formazione insieme